Eccoci qua, buongiorno a tutti, vediamo un attimo se si collega qualcuno, ma tanto poi il video resterà salvato sul canale YouTube per le valutazioni e gli ascolti successivi. Allora, ovviamente voglio commentare l'incredibile, per certi versi, poi in realtà è semplicemente secondo diritto, sentenza del GIP, del Tribunale di Reggio Emilia, che ieri ha dato una spallata, a mio avviso, formidabile all'impianto emergenziale del Governo, statuendo l'illegittimità totale dei DPCM, sia precedenti, sia quelli emessi successivamente da parte del Governo. Ora, la sentenza oggi c'è, ieri vi avevo dato la flash, oggi abbiamo, vedete, la sentenza per intero, sentenza assolutamente, vi ripeto, fondamentale, che volevo leggervi in modo che, come sempre, i video possono essere diffusi maggiormente, quindi raggiungere più persone. La stampa, dopo aver battuto lì per lì la notizia, mi pare che ieri non ha più parlato di questo fatto che ha del clamoroso, in sostanza. La fattispecie riguardava due cittadini che avevano dichiarato il falso sull'autocertificazione, erano usciti senza giustificato motivo, ma nonostante questo sono stati poi assolti, proprio perché il GIP ha detto che, di fatto, era illegittima la privazione della libertà personale a cui il DPCM li voleva assoggettare. Quindi, in sostanza, non importa cosa dichiari sull'autocertificazione, perché il punto centrale è che tu potevi uscire per fare ciò che volevi, perché la libertà personale non può essere intaccata. Ma, vediamo proprio la sentenza e le sue motivazioni, no? Perché tanto poi le chiacchiere stanno a zero e leggiamo che cosa scrive il giudice. Allora, ritiene il GIP che la richiesta di emissione del decreto di condanna non possa essere accolta, era un'opposizione al decreto penale di condanna, no? Perché sulla falsificazione dell'autocertificazione arriva in sostanza il decreto penale di condanna, cioè con una pena esclusivamente pecuniaria, non pena detentiva, ma convertita in pecuniaria. Questi cittadini non se ne sono stati, non hanno pagato, ma hanno deciso di fare opposizione e questo provoca ovviamente un giudizio penale vero e proprio, che si è svolto davanti al giudice delle indagini preliminari. Ritiene il GIP che la richiesta di emissione del decreto di condanna non possa essere accolta e debba trovare luogo una sentenza di proscioglimento, ex articolo 129 CPC, per effetto delle brevi considerazioni che seguono, e qui le motivazioni che demoliscono i DPCM. Premesso che viene contestato a ciascun imputato il delitto dell'articolo 483 CP perché compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell'abitazione, in contrasto con l'obbligo imposto dal DPCM 8 marzo 2020, attestavano falsamente i carabinieri di correggio di essere andati a sottoporsi a esami clinici, ok? Quindi escono in violazione del DPCM e dicono dobbiamo andare a fare degli esami, ma è tutto falso, i carabinieri lo scoprono e quindi da lì si apre questo procedimento. Evidenziato che la violazione contestata trova il quale suo presupposto, al fine di giustificare il proprio allontanamento dall'abitazione, l'obbligo di compilare l'autocertificazione, imposto in via generale per effetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del DPCM, citato dall'autocertificazione stessa. E qui arriviamo al bello. In via assorbente, scrive il giudice, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM 8 marzo 2020, evocato nell'autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato, come pure di tutti quelli successivamente emanati dal capo del governo. Sto leggendo le motivazioni della sentenza. Quindi veramente clamoroso. Spiega poi il giudice tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia nel nostro ordinamento giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare, ed è questo il punto, consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale, che viene irrogata dal giudice penale per alcuni reatti all'esito di un giudizio, ovvero in via cautelare, in caso di misura cautelare, eccetera, eccetera. In ogni caso nel rispetto del diritto di difesa, sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale. È chiaro? Quindi dire state a casa, state in un comune, non potete uscire, se non per determinati motivi, incide sulla libertà personale dei cittadini. E a questo punto cosa significa? Che si applica l'articolo 13 della Costituzione, come vi ho sempre detto, che prevede la doppia garanzia, riserva di legge assoluta, cioè deve essere una legge dello Stato a comprimere la libertà personale, qui non c'è perché sono atti amministrativi, ma comunque, anche se ci fosse una legge dello Stato, serve l'ordine motivato da parte dell'autorità giudiziaria, perché la limitazione della libertà personale segue eventualmente a un delitto commesso, a un reato. Questo è il punto, non si può fare in altri termini, non c'è la possibilità di farlo, la libertà personale è inviolabile. Cosa non abbiano capito del termine inviolabile non è dato saperlo. Inviolabile significa inviolabile per qualsiasi ragione, anche per la peste bubonica, per i bombardamenti nucleari, per qualsiasi cosa. È inviolabile. Cadono le bombe, voglio uscire, esco lo stesso, perché la libertà personale è inviolabile. Punto. Non si discute, non si dibatte, è reato comprimerla. Chi comprime la libertà personale è punita ai sensi dell'articolo 605 del codice penale, sequestro di persona. Interessante, con questa sentenza in più, rilanciare la denuncia che avevo già fatto e che ora ripresenteremo con il nuovo DPCM di Draghi, l'aspettiamo questa sera, e andremo avanti denunciando sia Conte che Draghi, quindi sia il governo precedente che il governo attuale, perché ha compresso illegittimamente la libertà personale. Questo è reato. Non è reato, quindi, come dice il GIP di Reggio Emilia, violare il DPCM. È lecito, perché è reato imporre quelle misure. Esatto contrario. Peraltro, continua il GIP, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una restrizione della libertà personale dalle situazioni ben più lievi dell'obbligo di permanenza domiciliare, come ad esempio il prelievo ematico, ovvero l'obbligo di presentazione presso l'autorità di PG in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in caso appunto di DASPO. Quindi dice, anche in esempi più limitati di compressione della libertà personale, comunque si è intervenuti, in ogni caso. Non ci sono spostati da questo punto. È sempre stato pacifico che la libertà personale ha queste garanzie. Anche l'accompagnamento coattivo dalla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale, con conseguente dichiarazione di legittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del giudice ordinario sulla misura di controllo, poi introdotta dal legislatore in esecuzione dell'ordine della Corte Costituzionale. La disciplina del trattamento sanitario obbligatorio, ugualmente poiché impatta sulla libertà personale, prevede un controllo tempestivo del giudice, in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi previsti tassativamente dalla legge. Infatti l'articolo 13 della Costituzione, appunto come vi dicevo, stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi nei modi previsti dalla legge. Primo colorario di tale principio costituzionale dunque è che un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, chiaro, un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di l'ango secondario e non già di atto normativo avente forza di legge. Ma se anche stasera facessero il decreto legge, nulla cambia, perché comunque serve l'ordine dell'autorità giudiziaria per la limitazione della libertà personale. Quindi continuano a commettere reato loro, il governo, non noi che usciamo, ok? Secondo corollario del medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge, appunto lo dice Chiarettondo, quindi completa la sentenza in ogni sua parte, neppure una legge, un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto legge, potrebbe prevedere in via generale astratta nel nostro ordinamento l'obbligo della permanenza domiciliare, disposto nei confronti di una pluralità indeterminata dei cittadini, ok? Neppure un decreto legge, neppure se convertito, in ogni caso non si può fare. È reato quello che stanno facendo. Peraltro nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di atto amministrativo, il giudice ordinario non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte, ma deve procedere direttamente a disapplicare l'atto. Questo spiega perché hanno usato i DPCM, cioè il famoso dolo. Usano i DPCM per evitare che una sentenza abbia effetti erga omnes, perché in questo caso ci fosse stato il decreto legge, il GIP trasmetteva gli atti alla Corte Costituzionale, sollevava la questione di legittimità della normativa in riferimento alla violazione dell'articolo 13, la Corte faceva una pronuncia che valeva erga omnes e saltava l'impianto d'emergenza. Usano i DPCM in modo di parare il colpo, la sentenza vale solo per il singolo caso e si difendono. Ma attenzione, è qui che ora dobbiamo contrattaccare. Ora dobbiamo contrattaccare perché ovviamente in questo momento noi possiamo perfettamente agire e possiamo denunciare penalmente queste persone. È qui che si contrattacca. Si contrattacca sulla denuncia penale. Si contrattacca perché limitare la libertà personale è reato. Punto. Non si discute. È reato perché l'articolo 605 punisce chiunque e limita illegittimamente la libertà personale. Che la libertà personale è stata limitata illegittimamente lo dice chiaramente questa sentenza. L'ulteriore sentenza, c'era già stato il precedente di Frosinone, quello del Tribunale di Roma. Questo è un giudice penale ma andiamo avanti su questa strada perché come dice il GIP non è opinabile o discutibile. È proprio indiscutibile l'illegittimità dei DPCM. Quindi signori miei, ovviamente il mio invito è reagite a queste misure. Ognuno con la sua sensibilità, ognuno con le sue valutazioni ma non rispettate norme palesemente incostituzionali. In caso di sanzione ovviamente si procede giudizialmente. E questo è l'unico segnale che si può dare anche per stoppare questa situazione. In più vi ripeto, vi metterò a disposizione nei prossimi giorni anche la denuncia penale nuova elaborata con l'ultimo atto che ci sarà oggi di Mario Draghi e insisteremo ancora con più durezza stavolta ribadendo che non è ammissibile un'archiviazione da parte delle procure. Le procure devono indagare il governo e devono stoppare questa situazione di totale illegittimità. Perché c'è un sequestro di persone in atto che prosegue col coprifuoco ad esempio senza andare a cercare le zone rosse e comunque ora l'Italia praticamente tutta diventa la zona rossa. Ma comunque c'è una limitazione della libertà personale in violazione di legge che deve essere fermata. Fermata con ogni mezzo e la magistratura deve farlo. C'è la magistratura penale che deve fermare il governo a questo punto. Punto. Non si discute. Questo GIP lo dice chiaro e tondo. In bocca al lupo. Vediamo cosa succederà. Però cerchiamo di lottare. Basta. C'è un anno che ci hanno tolto la libertà personale. Voi capite che tutto questo è davvero inaccettabile. Si crea un precedente che è pericolosissimo per la tenuta democratica del Paese. Altre misure potevano essere considerate. La salute è un bene da tutelare. Una democrazia doveva tutelare su base volontaria ovviamente le persone, non imporre niente. Ma a questo punto, voglio dire, la situazione è questa e dobbiamo reagire a questa situazione. Un caro saluto.